Allora, ti leggo il comunicato ufficiale del Grande Fratello. Stefano, le tue parole, come avrai capito, hanno violato le regole e lo spirito stesso del Grande Fratello. In casi come questi, la decisione, come ben sai, è inevitabile. Stefano, sei ufficialmente squalificato dal gioco. Mi dispiace, ma devo chiederti di salutare tutti e di raggiungermi in studio. Va bene. Grazie. Ciao Andre, bocca al lupo per tutto. Tranquil, ciao Paulino, bocca al lupo. Non ho capito cosa, era il gesto. Ti racconteranno i ragazzi. Ciao Elino, figurati. Poi tanto ci sentiamo, ci sentiamo. Ma no, ma cosa devi piangere? Ma io ti voglio bene, dai tu.